Crisi sanitaria, escalation, attentati, microdiscariche, comune allo sbando. È possibile affrontare una guerra senza un esercito e senza armi? È possibile, privi di mezzi e risorse umane, sostenere addirittura più battaglie importanti su più fronti? Lascio ai concittadini la risposta a queste domande. È di affronte della retorica con cui l'amministrazione comunale comunica attraverso gli organi di stampa la sua ferrea volontà di arginare almeno tre delle più gravi emergenze di ordine pubblico che hanno caratterizzato l'anno appena trascorso. Questa è la riflessione dell'ex vicepresidente del Consiglio Comunale, Michele Mangiafigo, in riferimento alla crisi sanitaria, all'escalation degli attentati intimidatori in città e al fenomeno delle discariche a cielo aperto. In tutti e tre i casi l'amministrazione comunale ha sempre asserito di stare dalla parte del controllo del territorio e della tutela dell'ordine, della salute e dell'ambiente. Tuttavia queste battaglie non si combattono solo con le solidarietà, le ordinanze. A nulla servono, spiega Mangiafigo, questi provvedimenti se non vengono declinati con gli atti concreti funzionali al controllo del territorio. Sto parlando anzitutto dell'organico del Corpo di Polizia Municipale assolutamente inadeguato rispetto alle necessità da affrontare, già prima della stessa pandemia, come affermato dallo stesso comandante in occasione dell'attività ispettiva del giugno 2019, in data 11 giugno 2019. Fu presentata da parte mia, dei colleghi Favara e Torres, una interrogazione sul fabbisogno del personale e le criticità del Corpo di Polizia Municipale, cui risposero la dottoressa Maria Grazia Di Stefano, dirigente del personale, con nota 5990 del 2019, e il dottor Enzo Miccoli, comandante della Polizia Municipale, con nota 10.0905 del 2019. Per migliore comprensione dell'opinione pubblica, c'è da dire che da parte di entrambi i dirigenti veniva rappresentata l'urgenza di almeno 40 nuovi ingressi nel Corpo di Polizia Municipale, che comunque non avrebbero colmato il gap tra vigili in servizi e vigili in pianta organica, ovvero 121 al 2019, però in totale auspicato di 245. Un gap numerico che si aggiunge a quello anagrafico, ovvero un'età media di 55 anni. Nonostante ciò, di fronte all'opportunità di un corposo investimento col piano del fabbisogno e con i successivi concorsi comunali, l'amministrazione comunale, che attualmente governa la città, ha guardato altrove, lasciando al Corpo di Polizia Municipale solo le briciole. Non dovrà sorprendersi se non riesce a controllare e sanzionare i comportamenti che generano il moltiplicarsi dei contagi, se le forze in campo per contrastare gli atti intimidatori alle attività commerciali sono insufficienti, se le micro discariche continuano a proliferare, deturpando l'ambiente in cui viviamo.